Fotografie, quadri, scritti, autografi, ma anche oggetti di uso quotidiano, come la 24 ore del senatore Guido Visori e la collezione di farfalle della pittrice Elena Berruti. Sono sei personaggi pratesi del Novecento che raccontano chi erano nella mostra alla scatola dei ricordi, ideata dall'archivio di Stato e dalla biblioteca roncioniana. Documenti pubblici e privati, letterari e iconografici, ma anche oggetti personali degli artisti sono esposti nella sala dell'archivio di Stato che ospita la mostra, che crea un percorso basato sul grande potere evocativo dei ricordi. In questo tempo, che si potrebbe anche definire o l'hanno definito della dimenticanza, allora mi ha portato a una riflessione sulle dinamiche con cui la memoria si sedimenta. La mostra cerca di parlare di memoria, della trasmissione della memoria di sé, che lo fa tramite un percorso che coinvolge sei personalità pratesi del Novecento esponendo le loro scatole dei ricordi e mettendo in evidenza così i loro modi diversi di trasmissione, di rapportarsi alla propria memoria. La mostra, la scatola dei ricordi, sottotitolo Siamo la nostra memoria, lasciamo segni, si inserisce nella rassegna Un autunno da sfogliare del sistema bibliotecario pratese e rimarrà esposta fino al 14 dicembre. È visitabile il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 17.20 e il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.50. L'ingresso è libero. Attivare le collaborazioni tra enti diversi mi sembra importante come in questo caso l'archivio di Stato e la biblioteca roncioniana che in particolare ha questa vocazione e attitudine a conservare la memoria, ma conservare la memoria non vuol dire tanto tenerla semplicemente rinchiusa negli scaffali ma che tutto ciò esca fuori e diventi fruibile e più possibile per tutti. Ad arricchire l'esposizione, un video realizzato da uno studente del liceo Rodari che nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro presso l'archivio di Stato ha raccolto le interviste di coloro che hanno conosciuto i sei personaggi pratesi attorno a cui ruota la mostra. Il video è una voce che accompagna, una seconda voce appunto che accompagna questi oggetti e che tramite la testimonianza di questi personaggi, di queste persone che appunto hanno parlato di questi personaggi pratesi hanno potuto, come posso dire, dare un'ulteriore spiegazione della loro presenza appunto qui. Grazie. Grazie. Grazie.